Un soldato nemico! 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 Senti kit è disponibile al vostro locale. Senti l'obiettivo. Senti! Senti l'obiettivo. Senti! Senti! Senti l'obiettivo. Senti l'obiettivo. Senti! Senti! Senti l'obiettivo. Senti l'obiettivo. Senti! 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 Caro nemico! Visto! Vedo un assaltatore nemico Contatto visivo con un soldato nemico Visto uno dei loro soldati We have taken objective Charlie Vedo uno dei loro soldati Ho individuato un soldato nemico Attenzione! Quello è un soldato nemico Assaltatore localizzato Ho visto un soldato Laggiù! Quello è in giusto! Contatto nemico individuato Stiamo attenti Siamo soldati Così non va ragazzi Reaggiamo! Attenzione! Attenzione! Contatto nemico! Avviso un soldato! Halfway in The enemy has the other hand We have an airship on route Un soldato nemico! Come on! Come on! Come on! Come on! Il nostro avviso è arrivato. Il nostro avviso è arrivato. Contatto avvisivo con un soldato nemico. Il nostro avviso è arrivato. 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 We have lost objective butter. We have taken objective charlie. Il nostro avviso. Vedo il nostro avviso è arrivato. Vedo il nostro avviso è arrivato. è arrivato. Vedo il nostro avviso è arrivato. 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 avviso è arrivato.